A San Romano in Garfagnana, nella zona nominata Goretti, c'era una bellissima Madonna intagliata, vicino una vina. La Madonna una sera venne misteriosamente rubata e non fu più ritrovata, ma stranamente, la notte dopo il furto, molti nel paese videro strane luci innalzarsi nel cielo. Alcuni hanno assistito anche a fenomeni di poltergeist. Durante la sera, poi, c'è chi giura di aver visto tipo demoni, una sorta di uomini bestia, con la testa da zoro, o di capra, che avevano i zoccoli al posto di piedi. C'è chi giura che lì ci sia una setta e che la Madonna, che era messa a propria protezione, sia stata volutamente rubata per dare spazio al maligno. Nel comune di Agnola è celebre la presenza dello spirito Lorenzo Squarcianuti, un antico nobile che ama vagare nel castello della stessa cittadina e nelle strade circostanti. Molti sono i racconti che parlano del nobile e le apparizioni dello stesso sarebbero più frequenti di sera.